Capitolo dodicesimo Il 25 settembre cominciarono i lavori per la nuova facciata del Paradiso delle Signore. Il barone Hartman aveva mantenuto la sua promessa e nell'ultima adunanza generale del credito fondiario era riuscito a spuntarla. Così More vedeva avverati i suoi sogni. La facciata di Rudeau d'Isdesambre era la splendida conferma delle sue vittorie. Vole perciò porre con gran solennità la prima pietra e, a fare più lieta la festa, distribuì gratificazioni ai commessi e diede loro a tavola la sera selvaggina e champagne. Quando sul palco con un colpo di mestola morò la pietra, tutti lo videro di buon umore e osservarono il suo gesto da trionfatore. Da qualche settimana era inquieto, agitato da un malore nervoso che non riusciva neppure sempre a nascondere e quella cerimonia gli dava un po' di riposo e lo distraeva. Tutta la giornata parve tornato alla sua bella allegria d'uomo che si sente bene, ma dopo cena, quando attraversò il refettorio per bere un bicchiere di champagne coi suoi impiegati, ricomparve febbricitante sorridendo con sforzo. Le fattezze contratte dal male non confessato che lo consumava. Era ricaduto. Il giorno dopo, all'abbigliamento, Claire volle fare un dispetto Denise. S'era finalmente accorta dell'amore di Colombin e pensò di canzonare i Bédu. Intanto che Marguerite temperava la matita aspettando i clienti, le disse a voce alta «Sapete, quel mio innamorato di fronte mi fa compassione in quella botteguccia nera dove non entra mai nessuno». «Non è poi tanto disgraziato», rispose Marguerite. «Deve sposare la figlia del padrone». «Toh», riprese Claire. «Sarebbe bello portarglielo via. Gli vado a far l'occhiolino, parola d'onore». E seguitò, tutta contenta di vedere che Denise ci soffriva. Denise le perdonava tutto, ma il pensiero della cugina Genevieve, logorata da quella crudeltà ed uccisa, faceva sì che non potesse più contenersi. Per l'appunto veniva una cliente e, siccome Madame Orelie era scesa nel sotterraneo, era lei che dirigeva il reparto, chiamò Claire «Signorina, fareste meglio stare attenta alle clienti invece di chiacchierare». «Non chiacchieravo! Fate silenzio e non perdete più tempo!» Claire si rassegnò domata. Quando Denise faceva così sul serio, non c'era bisogno che alzasse la voce. Nessuno le resisteva. Con la sua stessa dolcezza si era acquistata piena autorità. Per un po' passeggiò in silenzio in mezzo alle ragazze che non fiatavano. Marguerite si era rimessa a temperare la matita a cui si spezzava sempre la punta. Non c'era che lei che approvasse la vice per non aver ceduto a More. Scrollava al capo, non confessava mai d'aver avuto un bambino, ma ripeteva spesso che, se si sapessero le conseguenze che può avere una sciocchezza, il perdere la testa anche per un minuto solo, nessuna si comporterebbe male. «Siete arrabbiata?» disse una voce dietro a Denise. Era Pauline che attraversava la sezione. Aveva visto tutto e, parlando sommessa, le sorrideva «Come si fa?» rispose sorridendo anche lei. «Non mi riesce a tenere a freno il mio piccolo regno». L'altra fece spallucce. «Via, via! Se voleste, sareste regina di quanti siamo!» Pauline non capiva ancora perché la sua amica tenesse duro. Fin dal luglio, ella aveva sposato Bouget e aveva fatto un gran sproposito, diceva ridendo. Il terribile Bordoncle le dava ora della buona nulla, come se per il commercio fosse bella e perduta. E aveva una grande paura che un giorno o l'altro non li mandassero ad amarsi lontano di lì, perché quei signori della direzione avevano decretato che l'amore era dannoso e mortale per la vendita. Era giunta a fingere di non vedere Bouget quando si incrociavano in una galleria. E proprio allora il sangue le aveva dato un tuffo essendoci mancato poco che Juvet non la sorprendesse mentre, dietro un monte di canovacci, discorreva col marito. «Eccolo lì, mi è venuto dietro», aggiunse lei, dopo aver raccontato vivacemente il fatto a Denise. «Eccolo lì che ci stana con quel nasone». Juvet veniva infatti da letrine, con la sua bella cravatta bianca, col naso ritto ad odorare qualche mancanza. Ma quando vide Denise si rannicchiò tutto e passò con aspetto cortesissimo. «Salvata», mormorò Pauline. «Siete stata voi che gli avete fatto soggezione. Se accade qualcosa, direte, non è vero? Due paroline per me. Sì, sì, non pigliate quell'aria. Una vostra parola, lo sanno tutti, butterebbe all'aria il magazzino». E si affrettò a tornare nel suo reparto. Denise si era fatta rossa, turbata da quelle allusioni dell'amica. Ma era vero. Sentiva vagamente la sua potenza per le adulazioni che la circondavano. Quando Madame Aurelie tornò, e trovò il reparto tranquillo e laborioso sotto la sorveglianza della vice, le sorrise affabilmente. Non stava più nemmeno tanto attorno a More, ma ogni giorno si mostrava più amabile, per una che poteva da un momento all'altro volere il suo posto di direttrice. Il regno di Denise cominciava. Soltanto Bourdoncle si ostinava a far guerra alla ragazza, un po' anche per antipatia d'indole. L'aveva in odio per quella sua grazia discreta. Poi la combatteva come un influsso pernicioso che avrebbe messo il magazzino in pericolo il giorno che More fosse stato vinto da lei. Le facoltà commerciali del padrone gli pareva dovessero naufragare tra quella inetta tenerezza. Quanto avevano guadagnato per via delle donne, se ne sarebbe andato per colpa di quella. Nessuna donna, del resto bastava scaldarlo. Le trattava tutte col disprezzo di un uomo senza passioni che faceva il mestiere di vivere su di loro e che aveva perduto le sue ultime illusioni, vedendole a nudo tra le miserie del proprio traffico. Invece di inebriarlo, l'odore delle 70.000 clienti gli dava intollerabili mal di testa, tanto che la prima cosa che faceva, tornato a casa, era picchiare le amanti. E quella ragazzetta, divenuta a poco a poco così temibile, gli dava tanto più noia in quanto non credeva affatto al disinteresse e alla sincerità dei suoi rifiuti. Per lui Denise recitava benissimo una parte, perché se si fosse data a More il primo giorno, lui l'avrebbe dimenticata senza dubbio alcuno il giorno dopo, mentre rifiutando aveva sempre più acceso i desideri di lui e lo faceva quasi impazzire e capace di ogni sciocchezza. Una che avesse fatto d'ogni erba un fascio non avrebbe condotto la cosa altrimenti di quell'inocentina. Perciò Bourdoncle non la poteva vedere, con quegli occhi chiari, quel viso dolce, col suo modo di fare così semplice, senza essere preso da una vera e propria paura, quasi avesse davanti a sé qualche cannibalessa travestita, il cupo indovinello della donna, la morte con le fattezze di una vergine. Come fare a mandare a vuoto le astuzie di quella falsa ingenua. Non cercava altro che penetrare nelle arti sue, sperando di metterle in piena luce. Prima o poi, qualche sbaglio lo doveva pur fare. L'avrebbe colta con uno dei suoi amanti e l'avrebbe mandata via da capo, restituendo così al magazzino il suo bel movimento di macchina esemplare. «State attento! State attento, Messie Jauvet!» ripeteva Bourdoncle all'ispettore. «Poi a ricompensarvi ci penso io!» Ma Jauvet non ci metteva troppo ardore, perché aveva bazzicato assai con le donne, e si chiedeva ora se non era più savio schierarsi dalla parte di chi poteva diventare padrone assoluta il giorno dopo. Non osava più avvicinarsi a lei, che pareva sempre bella da far impazzire. Il suo colonnello, si rammentava lui, si era ucciso per una in quel modo, una ragazza delicatina e modesta, che con un'occhiata metteva sotto sopra i cuori. «Stò attento! Sto attento!» rispondeva. «Ma parola d'onore e non scopro mai nulla!» Correvano non di meno delle storielle, anzi, mille chiacchiere maligne, sotto tutto quel rispetto e quelle adulazioni che Denise si sentiva intorno. Tutti ormai raccontavano che Houten era stato il suo amante. Non osavano giurare che se la intendessero sempre, ma di quando in quando sospettavano che si rivedessero. E Deloche, anche Deloche, andava a letto con lei. Si trovavano sempre negli angoli più oscuri e chiacchieravano delle ore intere, un vero scandalo. «Dunque, nulla quanto al capo delle sete e nulla quanto a quell'altro delle trine», ripeteva Bourdoncle. «No, nulla per ora», affermava l'ispettore. Bourdoncle sperava soprattutto di cogliere Denise con Deloche. Una mattina li aveva visti insieme nel sotterraneo che ridevano. Ma frattanto trattava la ragazza da potenza, perché non la sprezzava più sentendola tanto forte da poter far mandare via lui, che aveva dieci anni di servizio nel caso che lei vincesse il gioco. «Vi raccomando quel giovanotto delle letrine», concludeva ogni volta, «stanno sempre insieme. Se riesci a coglierli, chiamatemi e al resto ci penso io». Mure viveva intanto in un'angoscia continua. Era mai possibile che quella ragazza lo torturasse così stranamente. E gli pareva sempre di vederla come quando era giunta al paradiso, coi suoi scarponi, il suo vestito nero, la sua aria selvaggia. Non sapeva spiccare due parole. Tutti la canzonavano. Anche a lui era apparsa brutta da principio, brutta. Ed ora, con un'occhiata, lei se lo poteva fare inginocchiare davanti. Non la vedeva più che fra una gloria di raggi. Poi era rimasta l'ultima del magazzino, derisa e respinta, trattata da lui come una bestia curiosa. Per dei mesi aveva voluto osservare come fanno le ragazze a venire su e si era divertito a quell'esperienza senza capire che si giocava al suo cuore. A poco a poco si era fatta temibile. Chissà che non l'amasse fin dal primo istante, anche quando non credeva a sentir per lei che pietà. Eppure non se n'era accorto che quella sera, passeggiando con lei sotto gli ipocastani delle tuierì. La vita gli cominciava da lì. Gli pareva ancora di sentire le risate delle bambine, il lontano mormorio di una fontana, mentre nell'ombra calda Denise gli camminava accanto senza aprir bocca. Del seguito non si ricordava. La sua febbre era cresciuta di ora in ora. Tutto il suo sangue, tutta l'anima sua si era data a Costei, a quella bambina. Era possibile? Quando ella gli passava ora accanto, l'alito che veniva dal suo vestito gli pareva così forte che quasi ne barcollava. Aveva resistito per un pezzo e anche ora qualche volta si arrabbiava con se stesso e si voleva liberare da quello stupido incantesimo. Che aveva mai per poterlo avvincere così? Non l'aveva ammessa quasi per carità, almeno si fosse trattato di una di quelle splendide creature che mettono sotto sopra quanti le vedono, ma era una ragazzina. Aveva in fin dei conti uno di quei visi che non dicono nulla e passano inosservati. Non doveva nemmeno aver molto ingegno. Se ne ricordava di come aveva cominciato goffamente a stare al banco, ma dopo ognuno di questi sfoghi tornava ad essere più innamorato che mai, come sentisse un sacro terrore d'aver insultato il suo idolo. Aveva tutto in sé, lei. Aveva quanto c'è di buono nelle donne, il coraggio, l'allegria, la semplicità e la sua dolcezza inebriante come un profumo sottile. Non poteva vederla e andarle dietro come a una qualunque. Quel suo incantesimo agiva presto, con una forza lenta e invincibile, bisognava appartenerle per sempre se degnava di sorridere. Quando sorrideva, tutto nel suo volto delicato si animava. Gli occhi, il mento con la fossetta e i folti capelli biondi pareva l'illuminassero anche loro di una bellezza regale e conquistatrice. Dovette confessare d'esser vinto, era intelligente come bella. La sua intelligenza era tutt'una con l'animo di lei, mentre le altre ragazze del magazzino non avevano che un'educazione acquistata a forza di strofinarsi alle signore, vale a dire una vernice assai leggermente attaccata, lei, senza false eleganze, conservava intera la sua grazia e mostrava da dove veniva. Le più larghe idee sul commercio nascevano dalla pratica in quella fronte stretta, che con le sue linee pure mostrava la volontà e l'amore dell'ordine, e si sarebbe messo a mani giunte a chiederle perdono delle bestemmie che gli sfuggivano nelle ore di ribellione. Ma perché si rifiutava con quella ostinazione? L'aveva supplicata venti volte aumentando le offerte, promettendole denaro, denaro a manciate. Poi aveva creduto che fosse invece ambiziosa e l'aveva detto che l'avrebbe nominata direttrice non appena un reparto fosse rimasto vacante. E lei rifiutava. Rifiutava ancora. Era per lui uno stupore. Era una battaglia continua nella quale il suo desiderio sempre più si accecava. Gli pareva impossibile una tale avventura. Doveva finire col cedere quella ragazza, perché l'onestà di una donna, lui... L'aveva sempre considerata come una cosa relativa. Non vedeva più nessun altro scopo alla sua vita. Tutto spariva per lui in quel bisogno di tenerla con sé, di prendersela sulle ginocchia, baciandola sulle labbra, e, nel pensarci, le vene gli martellavano e si metteva a tremare, sconvolto dalla sua impotenza. Tutte le sue giornate passavano ormai in uno stesso pensiero doloroso. L'immagine di Denise si alzava con lui. Aveva fantasticato di lei tutta la notte. Lei lo seguiva alla scrivania del suo studio, dove dalle nove alle dieci firmava le carte. Le firmava meccanicamente, senza mai smettere di sentirla presente, a dir sempre di no con la sua aria tranquilla. Poi, alle dieci, aveva il consiglio. Un vero consiglio dei ministri. Una riunione dei dodici cointeressati, cui bisognava presiedesse. Discutevano le questioni d'ordine interno, esaminavano le compere, stabilivano le esposizioni da fare, e lei era sempre lì, e gli pareva di sentirne la voce dolce fra le cifre. Vedeva il suo sereno sorriso negli imbrogli finanziari più complicati. Dopo il consiglio, lei seguitava ad accompagnarlo, facendo con lui l'ispezione quotidiana dei reparti. Tornava con lui nello studio. Dalle due alle quattro stava lì, accanto alla sua poltrona, mentre riceveva i fabbricanti di tutta la Francia. I capi dei grandi opifici, i banchieri, gli inventori, un via vai continua della ricchezza e dell'intelligenza, turbinio di milioni, rapide conversazioni nelle quali erano discussi gli affari più importanti del mercato parigino. Se, nel decidere della rovina o della prosperità di un'industria, per un istante la dimenticava, se la sentiva subito dopo accanto per il battito del suo cuore. La voce gli veniva meno, mentre lui si domandava che gli giovasse quel denaro, dato che lei non lo voleva. Finalmente, quando suonavano le cinque, doveva firmare la posta e ricominciava il lavoro meccanico della sua mano. Denise allora gli si drizzava davanti più dominatrice. Lo riafferrava intero per possederlo lei sola nelle ore solitarie ardenti della notte e, la mattina dopo, ricominciava un'uguale giornata. Una di quelle giornate così piene di lavoro smisurato che il gentile fantasma ad una fanciulla bastava da amareggiare. Ma, principalmente, nella sua giornaliera ispezione dei magazzini, Mouret sentiva la sua sciagura. Aver costruito quella macchina gigantesca, regnare su tutta quella gente e morire di dolore perché una ragazzetta non vuol saperne di voi. Si disprezzava, assalito a quel modo dalla febbre e dalla vergogna del suo male. Qualche volta sentiva disgusto della propria potenza. Da un capo all'altro delle gallerie non aveva altro sentimento che la nausea. Invece, certi altri giorni avrebbe voluto estendere ancora di più il suo impero, farlo così grande che forse lei gli si sarebbe data per ammirazione e paura. Nel sotterraneo cominciava col fermarsi davanti all'apparecchio per calar giù la roba. Era sempre il Rune of Saint-Agustin, ma l'avevano dovuto ingrandire e pareva ora il letto d'un fiume dove il continuo fiotto delle mercanzie scorreva col grande frastuono delle acque. La roba giungeva da ogni parte del mondo, file di carri arrivavano da tutte le stazioni, non c'era mai tregua nello scaricare, casse e pacchi erano inghiottiti sottoterra dal magazzino insaziabile. Egli guardava quel torrente e pensava che era uno dei padroni della pubblica ricchezza, che aveva nelle sue mani le sorti delle fabbriche francesi e non poteva comprare il bacio di una delle sue ragazze. Poi andava all'ufficio degli arrivi, che occupava ora il sotterraneo lungo la Rumo-Signy. Venti tavoli in fila nella pallida luce che scendeva dalle aperture sul marciapiede, è un intero popolo di commessi a votare le casse, riscontrare le mercanzie, metterci i prezzi. Il rumore dell'apparecchio vicino non cessava mai e dominava le voci. Là i capi lo fermavano perché sciogliesse difficoltà, confermasse comandi. Quel fondo di cantina si riempiva dello splendore dei rasi, del candore delle tele, di un ammucchiamento prodigioso di merci, le pellicce accanto alle terine, gli oggetti parigini accanto alle stoffe dell'Oriente. Passava ad agio ad agio tra tante ricchezze gettate alla rinfusa che dovevano accedere nel magazzino e vivere nelle vetrine, facendo correre il denaro per i reparti, viste e prese nella furia del vendere da cui era invasa la casa. Egli pensava che aveva offerto alla ragazza sete, velluti, tutto quel che avesse voluto prendere a piene mani quei mucchi enormi e che, con un piccolo cenno della sua testolina bionda, lei aveva rifiutato. Dava quindi, all'altro capo del sotterraneo, la sua solita occhiata all'ufficio di spedizione. Interminabili corridoi si stendevano illuminati a gas. A destra e sinistra i depositi chiusi da cancelli parevano botteghe sotterranee di un intero quartiere di commercianti, mercerie, biancheria, guanti, chincaglierie addormentate nell'ombra. Poi c'era uno dei tre caloriferi, poi un posto di pompieri a guardia del contatore centrale del gas, chiuso nella sua gabbia di ferro. Trovava, all'ufficio di spedizione, le tavole già cariche di pacchi e di scatole, dove portavano continuamente delle ceste, e Campion, che era il capo, gli diceva come andavano le cose. Mentre i venti suoi impiegati distribuivano i pacchi negli scaffali, che avevano ciascuno il nome dei quartieri di Parigi, e di lì i garzoni li portavano poi agli carri, posti in fila lungo il marciapiede. Grida, nomi di vie, raccomandazioni, un clamore, un tumulto da piroscafo che stia per levare le ancore, ed egli rimaneva per un po' immobile a guardare quelle merci, che si espandevano per la città dopo essere state ingoiate all'altra estremità del sotterraneo. L'enorme corrente finiva là, di là usciva nella strada dopo aver deposto l'oro in fondo alle casse. Gli occhi gli si velavano. Quelle immense spedizioni non avevano per lui più alcuna importanza. Non gli restava altra idea che quella di un viaggio, l'idea di andarsene lontano lontano, se lei si ostinava a dire di no. Allora risaliva su, e continuava il suo giro parlando e agitandosi sempre di più senza potersi distrarre. Al secondo piano visitava l'ufficio della posta, cercando pretesti per sgridare arrabbiandosi dentro di sé contro la perfetta regolarità della macchina che aveva egli stesso ordinato. Quell'ufficio prendeva importanza maggiore di giorno in giorno. Non ci volevano meno di 200 impiegati, dei quali alcuni aprivano, leggevano, disponevano le lettere venute dalla provincia o dall'estero, e gli altri riunivano nei casellari le merci domandate. Il numero delle lettere era divenuto tale che non le contavano più. Le pesavano. Dei giorni ce n'erano per 35 chilogrammi. Egli attraversava febbrilmente le tre stanze dell'ufficio, domandava al capo, leva Sir, il peso della posta. 25 chilogrammi, 30 chilogrammi. Qualche volta di lunedì il peso cresceva sempre. Avrebbe dovuto esserne contentissimo. Ma invece restava serio serio nel rumore che gli imballatori facevano lì accanto inchiodando le casse. Era inutile che percorresse il magazzino. Il pensiero era pur sempre conficcato nel suo cervello, e più vedeva svolgerglisi davanti la sua potenza, più gli uffici e gli impiegati gli mostravano quanto fosse il lavoro e la ricchezza sua, più profondamente sentiva l'ingiuria della sua impotenza. L'Europa intera si rivolgeva a lui. Per portargli le lettere ci voleva una carrozza speciale delle poste, e Costei continuava a dire di no. Sempre di no. Ridiscendeva e dava un'occhiata alla cassa centrale, dove quattro cassieri stavano a guardia di due casse forti smisurate, per le quali l'anno prima erano passati 80 milioni. Davo un'occhiata all'ufficio del riscontro delle fatture, che aveva 25 impiegati scelti tra i più seri. Entravi in quello del De Falco, dove 35 giovani, i principianti, dovevano calcolare sulle fatture e la percentuale dei commessi. Tornava alla cassa centrale, si arrabbiava a vederle casse forti, camminava su e giù in mezzo a quel denaro che lo faceva impazzire, inutile come gli era. Lei diceva di no, sempre di no, sempre di no, in tutti i reparti, nelle gallerie, nelle sale, per tutto il magazzino. Andava dalle sete alla biancheria, dalla biancheria alle trine, saliva al primo e al secondo piano, si fermava sui ponti sospesi, prolungava l'ispezione con un'esistenza maniaca e tormentosa, il magazzino era cresciuto a dismisura. Aveva messo su quel reparto e poi quest'altro, regnava su quei suoi nuovi domini, stendeva il suo impero fino a quella tale industria, l'ultima conquistata, e sempre no, sempre no. Gli impiegati avrebbero ormai potuto popolare una piccola città, 1500 addetti alla vendita, mille altri di ogni sorta, con 40 ispettori e 60 cassieri. Le cucine sole avevano bisogno di 32 fra cuochi e sguatteri, 10 commessi per la pubblicità, 350 garzoni in livrea, 24 pompieri fissi, e nelle scuderie, scuderie regali, posti in Rue Monsigny, di fronte ai magazzini, stavano 145 cavalli, con un lusso di carrozze ed equipaggi divenuto celebre. Le prime quattro che avevano già messo sotto sopra tutto il quartiere, quando il magazzino non occupava che l'angolo di Prasgaillon, erano a poco a poco diventate 62, d'ogni maniera, leggere a un cavallo, pesanti carri a due. Correvano di continuo per Parigi, correttamente guidate da cucchieri vestiti di nero, e dappertutto portavano l'insegna oro e porpora del Paradiso delle Signore. Uscivano anche dai bastioni e correvano per i dintorni, si vedevano dalle parti di Bissetre, lungo la Marna, fin sotto le ombre del bosco di Saint-Germain. Qualche volta, in fondo a un viale soleggiato, in quel deserto, in quel silenzio, ne appariva una che passava al trotto dei suoi bei cavalli, gettando nella pace misteriosa dell'aperta natura la violenta pubblicità della sua vernice. Pensava di mandarle anche più lontano, nei dipartimenti vicini, avrebbe voluto sentirle sonanti per tutte le vie della Francia, da un confine all'altro, ma non scendeva nemmeno più a visitare i suoi cavalli che adorava. A che serviva quella conquista del mondo se lei diceva sempre di no. Quando la sera passava davanti alla cassa di Lom, dava ancora per abitudine un'occhiata all'incasso scritto su un foglio che il cassiere si teneva accanto. Non erano mai, o ben di rado, meno di centomila franchi e, qualche volta, nei giorni di grande esposizione, anche ottocento o novecentomila. Ma a tale somma non gli suonava più all'orecchio come uno squillo di tromba. Rimpiangeva di averla guadagnata e se ne andava pieno d'amarezza, d'odio e disprezzo per il denaro. Ma i dolori di Muret dovevano crescere ancora. Diventò geloso. Una mattina nel suo studio, prima del consiglio, Bourdonc osò fargli capire che quella ragazzuccia dell'abbigliamento si faceva beffe di lui. Come? domandò egli pallidissimo. Già, ha degli amanti, perfino qui. Muret ebbe la forza di sorridere. Non ci penso più a lei. Mi potete dunque dire tutto. Chi sono questi amanti? O ten, dicono. E un altro delle trine, delosce. Quel pezzo di citrullo. Non confermo, eh? Io non li ho visti, ma pare che tutti lo sappiano. Muret, senza rispondere nulla, fingeva di riordinare i fogli sul banco per nascondere il tremito delle mani. Finalmente, senza alzare gli occhi, disse, ci vorrebbero delle prove. Fate di tutto per trovarle. Ah, non me ne importa mica nulla. Sono belle guarito io, ma nel magazzino queste cose non si possono tollerare. Bourdonc non rispose altro che questo. State pure tranquillo. Uno di questi giorni vi porto le prove. Sto attento. Non dubitate. Allora Muret perse del tutto la calma. Senza aver più il coraggio di tornare su quel discorso, visse nell'attesa continua ad una catastrofe che gli avrebbe spezzato il cuore. E il suo tormento lo fece terribile. Tutto il magazzino ne tremò. Non si nascondeva più dietro Bourdonc. Licenziava lui, in persona, preso da un bisogno nervoso di sfogarsi, urlando e abusando della sua potenza. Di quella sua potenza che non gli serviva a nulla da che non appagava il suo unico desiderio. Ogni ispezione diventava un massacro. Tutte le volte che compariva, un brivido di terrore e panico si diffondeva da banco a banco. Cominciava, appunto, il tempo invernale della vendita scarsa, ed egli ripulì i reparti, cacciando via a gruppi. Il suo primo pensiero era stato di mettere fuori Utene Deloche. Poi aveva riflettuto che così non avrebbe saputo più nulla, e gli altri la pagavano per loro. Tutti avevano paura. La sera, quando si trovava solo, gli occhi gli si gonfiavano di lacrime. Un giorno poi fu un vero terrore. Un ispettore credeva di essersi accorto che Mignot, quello dei guanti, rubava. Al suo banco c'erano sempre certe ragazze di modi così strani. E ne avevano acchiappata una coi fianchi e il petto pieni di sessanta paia di guanti. Stettero attenti. E l'ispettore poté sorprendere Mignot in flagrante delitto, mentre teneva mano a una bionda, già impiegata al Louvre ed ora sul lastrico. Era una cosa semplicissima. Lui fingeva di provarle i guanti, aspettava che fosse piena zeppa del furto e poi l'accompagnava a una cassa dove lei ne pagava un paio. More, per l'appunto, ci si trovò presente. Di solito non entrava in quelle avventure che si ripetevano spesso, perché, per quanto tutto fosse ben regolato, in alcuni reparti c'era assai disordine e non passava settimana che non fosse mandato via qualcuno come ladro. La direzione cercava anzi di nascondere le cose più che fosse possibile, reputando inutile chiamare le guardie di polizia che avrebbero così messo in mostra una delle piaghe inevitabili dei grandi magazzini. Ma a quella volta More aveva bisogno di sfogarsi e trattò bruscamente il bel Mignot che tremava dalla paura, livido nel volto e stravolto. «Dovrei chiamare le guardie!» urlava in mezzo a tutti. «Ma rispondete dunque! Chi è quella ragazza? Vi giuro che mando a chiamare la polizia se non dite la verità!» Avevano portato altrove la ragazza e due donne la spogliavano. Mignot balbettò «Io non la conosco, è lei che è venuta!» «Non dite bugie!» interruppe More, sempre più infuriato. «E nessuno qui ce lo dice! Siete tutti d'accordo, siamo in un bosco! Derubati, assassinati, saccheggiati! Bisognerà non far più uscire uno senza frugargli le tasche!» Ci furono dei mormorii. Le tre o quattro signore che compravano guanti stavano lì spaventate. «Silenzio!» riprese egli furibondo. «Silenzio! O tutti fuori!» Ma Bourdoncle era accorso, inquieto per lo scandalo. Sussurrò qualcosa all'orecchio di More. L'affare si faceva grave. E lo persuase a condurre Mignot nella stanza degli ispettori, che era al pianterreno vicino alla porta Gaillon. La donna era lì, che si rivestiva tranquillamente. Aveva nominato Albert Lomme. Mignot, interrogato da capo, perse la testa e si mise a piangere. Non era lui il colpevole. Era Albert, che gli mandava le sue amanti. Da principio si era accontentato di farle profittare delle occasioni. Poi, quando si erano messe a rubare, era già tanto compromesso che non aveva avuto il coraggio di dirlo. Vennero allora in luce furti continui e incredibili. Merci portate via da ragazze che se le andavano a riporre sotto le gonnelle nei luoghi comodi di lusso. Posti tra le piante verdi, vicino alla stanza dei liquori. Compere che un commesso non diceva forte alla cassa quando vi conduceva una cliente, facendo a mezzo del prezzo col cassiere. Perfino delle false rese di roba che dicevano essere stata riportata mentre non era e ne intescavano il prezzo, pagato davvero, dalla cassa, senza contare il furto classico. Pacchi che i commessi nascondevano la sera sotto il soprabito o si cingevano alla vita, o anche si attaccavano le ragazze lungo le cosce. Da quattordici mesi, per via di Mignot e di altri che essi rifiutarono di nominare, alla cassa di Albert si faceva una impudente mangeria della quale non si poté mai sapere precisamente la somma. La cosa intanto si era sparsa per i reparti. Le coscienze inquiete rabbrividivano. Anche le più sicure avevano paura di un repulisti generale. Albert era stato chiamato nella stanza degli ispettori. Poi era passato l'homme, con tutto il sangue alla testa, col collo già stretto dall'apoplessia. Poi anche madame Aurelie era stata chiamata e lei, continuando a tenere alta la testa, era livida come una maschera di cera. Stettelo chiusi a lungo e nessuno seppe bene i particolari. Corse voce che la direttrice avesse preso a schiaffi Albert fino a fargli rivoltare la testa da un'altra parte. E che quel buon uomo del papà piangeva, mentre il padrone, senza lasciarsi quella volta commuovere, urlava e bestemmiava che voleva ad ogni costo mandare il colpevole davanti al tribunale. Lo scandalo, non di meno, si fermò lì. Soltanto Mignot fu mandato via su due piedi. Albert non scomparve che due giorni dopo. Madame Aurelie aveva senza dubbio ottenuto che la famiglia non fosse disonorata con un licenziamento improvviso. Ma il terrore durò ancora per qualche giorno perché Mouret, dopo quel fatto, aveva passeggiato su e giù per i magazzini con certi occhi spaventosi e cacciando via quanti osavano alzar gli occhi. «Che fate lì a guardare le mosche? Alla cassa!» Finalmente la tempesta si rovesciò un giorno su Temmedesimo. Favier, che era diventato aiuto, cercava di minare il capo e togliergli il posto. Era quella solita arte delle chiacchiere sottovoce, delle occasioni prese al volo per far accusare il capo che in verità non sbagliava. Dunque, una mattina, mentre Mouret attraversava le sete, si fermò sorpreso di vedere Favier che cambiava i prezzi di tutta una partita di velluto nero. «Perché abbassati i prezzi? Chi ve l'ha detto?» L'aiuto, che faceva quel lavoro con grande impegno, come se proprio avesse voluto che il direttore ci si fermasse. Prevedendo il seguito, rispose con aria ingenuamente sorpresa. «È stato Monsieur Houten!» «Monsieur Houten?» «E dov'è Monsieur Houten?» E quando questi fu tornato, chiamato in fretta e furia da un commesso, ci fu un vero diverbio. Come? Si era dunque messo ad abbassare i prezzi a suo capriccio. Ma parve che anche lui cascasse dalle nuvole. Non aveva dato nessun ordine. Aveva parlato di quel ribasso con Favier, così, chiacchierando. Favier prese allora l'aria addolorata ad un impiegato che si vede costretto a contraddire il suo superiore. Se si trattava di salvarlo, lui peraltro era pronto a pigliarsi per sé la colpa. Le cose si guastarono sempre più. «Capite, Monsieur Houten!» gridava Moret. «Non ho mai tollerato questi tentativi di indipendenza! Noi soli dobbiamo stabilire i prezzi!» Seguitò con voce aspra, con una manifesta intenzione d'offendere, che sorprese i commessi perché di solito quelle discussioni accadevano in disparte e il caso poteva anche essere nato da un equivoco. Si sentiva che si sfogava di un rancore che non voleva confessare. L'aveva preso alla fine in fallo quell'Houten, che dicevano fosse l'amante di Denise. Si poteva un po' sfogare facendogli sentire duramente che era lui il padrone, ed esagerava insinuando perfino che quel ribasso di prezzi nascondesse intenzioni poco oneste. «Ma io», ripeteva Houten, «vi volevo parlare di questo ribasso. È necessario perché i velluti, come sapete, non sono andati». Moret volle farla finita, con un'altra insolenza. «Sta bene, esamineremo la cosa e se volete restare qui, non ricominciate!» Gli voltò le spalle. Houten sbalordito, furibondo, non avendo altri che Favier per sfogarsi un po', gli disse e giurò che voleva gettare subito le sue dimissioni sul viso a quel bestione. Poi non parlò più di andarsene. Si contentò di rimuginare tutte le infame accuse che gli impiegati muovevano i capi, e Favier, con gli occhi lustri, si difendeva con grandi attestazioni di simpatia. «Come si fa a non rispondere? E chi si sarebbe potuto immaginare una sfuriata di quel genere per delle sciocchezze di nulla? Che aveva il padrone da un pezzo in qua che non ci si poteva più ragionare?» «Che cos'ha?» rispose Houten. «Si sa che cos'ha. Che colpo io se quella seccherella dell'abbigliamento gli fa girare la testa. Tutto dipende da lei. Lui sa che ci sono stato a letto insieme e non gli va a sangue. Oppure è lei che mi vuol far mandare via perché le do noia. Ma vi giuro io che se mai mi capita fra le unghie, le sconta tutte.» Due giorni dopo, nel salire ai laboratori per raccomandare in persona una ragazza, Houtentra salì, nel vedere in fondo a un andito Denise Deloche coi gomiti su una finestra aperta, tanto sprofondati in una conversazione intima, che non si voltarono nemmeno. Gli venne subito il pensiero di farli sorprendere. Deloche piangeva. Allora se ne andò in punta di piedi. E per la scala, avendo incontrato Bourdoncle e Jouvet, disse loro quel che gli venne lì per lì. Un guasto qualunque a una porta. Così sarebbero saliti su e avrebbero visto tutto. Bourdoncle li scoprì per primo. Si fermò e disse a Jouvet di andare a cercare il direttore. Lui avrebbe aspettato lì. L'ispettore dovette ubbidire, per quanto non gli piacesse affatto entrare in quell'imbroglio. Era un angoletto sperso nel vasto mondo dove si agitava il popolo del paradiso. Vi si arrivava per cento scale ed anditi. I laboratori stavano nelle soffitte, in una fila di stanze basse, rischiarate da finestroni aperti nello zinco del tetto. Senz'altra mobiglia che lunghe tavole ed enormi stufe di ferrofuso. Quelle della biancheria, delle trine, dei vestiti, dei ricami, vivevano estate e inverno in un caldo soffocante, in mezzo all'odore speciale della roba. E bisognava costeggiare tutto il fabbricato, svoltare a sinistra dopo il laboratorio dei vestiti, salire cinque scalini prima di giungere a quell'angolo del corridoio. Le rare signore, che un commesso accompagnava qualche volta lassù per ordinarsi qualcosa, ripigliavano fiato, stanche, spaurite, parendo loro di aver girato intorno a se stesse per delle ore intere ed essere lontane centomiglia dalla strada. Non era la prima volta che Denise trovava Deloscia ad aspettarla accanto alla finestra. Nella sua qualità di aiuto, lei doveva spesso andare nel laboratorio dove non si facevano che i modelli e gli accomodi. Ogni tanto le conveniva salire lassù per dare degli ordini. Deloscia la stava ad aspettare, inventava un pretesto, le andava dietro, poi fingeva ad essere sorpreso quando si imbatteva in lei davanti alla porta del laboratorio. Denise aveva finito corriderci ed erano quasi appuntamenti accettati. Il corridoio andava lungo il serbatoio dell'acqua, un immenso quadrato che conteneva 60.000 litri, e sul tetto ce n'era un altro di uguale grandezza, al quale si giungeva per mezzo di una scala di ferro. Deloscia stava lì, a discorrere un po' appoggiandosi con una spalla, nel continuo abbandono del suo gran corpo rotto dalla stanchezza. L'acqua gorgogliava misteriosamente e lo zinco ne vibrava. Per quanto il silenzio fosse profondo, Denise ogni tanto si voltava inquietamente, perché gli era parso di veder passare un'ombra sui muri nudi dipinti di giallo chiaro. Ma presto la finestra gli attirava, ci si appoggiavano con i gomiti, si dimenticavano di tutto in allegre chiacchiere, in infiniti ricordi del loro villaggio. Sotto di loro si stendeva l'immensa invetriata della galleria centrale, lago di cristalli chiuso dai tetti lontani come da coste rocciose. E più in là non vedevano che il cielo, un pezzo di cielo che specchiava nell'acqua dormiente dei vetri il volo delle sue nuvole e i suoi dolci azzurri. Quel giorno, per l'appunto, Deloche parlava di Valogne. Avevo sei anni quando la mamma mi portava in un calessino al mercato della città. Ci sono tredici chilometri, bisognava partire da Briquebeck alle cinque. Com'è bello lì da noi. Ci siete stata mai? Sì, sì, rispondeva lentamente Denise, con gli occhi fissi su un punto lontano. Ci sono stata una volta, ma ero piccina piccina. Certe strade con l'erba da tutte e due le parti, non è vero? E ogni tanto dei montoni a due a due che si tirano dietro la fune. Si zittiva e poi sorridendo. Noi invece abbiamo delle strade diritte diritte per delle leghe, con degli alberi che fanno ombra, dei prati con attorno le siepi più alte di me e dentro cavalli e vacche. C'è un fiumicello e l'acqua in un posto che mi ricordo bene sotto la macchia è freschissima. Come da noi, come da noi, esclamava Deloche, tutto contento. Non si vede che erba. Tutti si chiudono il proprio pezzo di terra con olmi e biancospini e ci si sta come in casa propria. Tutto verde. E che verde? A Parigi non ce l'hanno mica. Quanto chiasso ho fatto io in fondo alla stradicciola che porta al mulino. E le loro voci si commuovevano, restavano con gli occhi fissi e smarriti sui vetri luccicanti di sole. Da quella luce accecante si alzava davanti a loro una visione. Vedevano prati infiniti. Il contentin bagnato dall'alito dell'oceano, tinto di vapore luminoso, che sfumava l'orizzonte in un grigio delicato d'acquarello. E laggiù, sotto l'enorme ossatura di ferro, nella sala delle sete, la vendita rumoreggiava nel fremito della macchina. Tutto il magazzino vibrava nello scalpiccio della folla, nella furia dei commessi, nella vita di quelle ventimila persone che vi si premevano. Essi, lasciandosi trasportare dei loro sogni, sentendo quel profondo e cupo clamore che faceva fremere i tetti, credevano di sentire il vento che passava sull'erba e scuoteva i grandi alberi. «Mio Dio, ma perché?» mormorò Deloche. «Perché, signorina, non siete un po' più buona? Vi voglio tanto bene io!» Aveva le lacrime agli occhi e, volendo lei interrompere con un gesto, continuò in fretta. «No, lasciatemele dire un'altra volta queste cose. Si starebbe tanto bene insieme, due che sono delle stesse parti, hanno sempre di che parlare!» Non poteva andare avanti dalla commozione e lei gli poteva dire con dolcezza. «Eppure, ma avevate promesso di non farmi più questi discorsi? È impossibile. Siete un bravo figliolo e vi sono amica vera, ma voglio restare con la mia libertà!» «Sì, sì, lo so!» riprese lui e gli moriva nei singulti la voce. «Voi non mi amate!» «Oh, me lo potete anche dire, tanto lo vedo da me che io non ho nulla che vi possa far innamorare. Vedete, in vita mia io non ho avuto che un'ora buona, una sola. Quella sera che vi incontrai a Joanville, ve ne ricordate? Per un po' sotto gli alberi, in quell'ombra, mi parve che il braccio vi tremasse. E fui tanto stupido da immaginarmi». Ma Denise l'interruppe. Aveva sentito i passi di Juve in fondo al corridoio. «Zitto! C'è qualcuno!» «No!» disse lui, impedendole di scostarsi dalla finestra. Da questo serbatoio escono alle volte dei rumori. Che si crederebbe ci fosse della gente lì dentro. E continuò nei suoi lamenti timidi e carezzevoli. Lei non l'ascoltava più, riassorta in una fantasticheria in quella ninna-nanna d'amore. Ed errando con lo sguardo sopra le tettoie del Paradiso, campo immenso di vetri e di zinco di là dal quale si perdevano i tetti delle case vicine. A destra e a sinistra della galleria Cristalli, altre gallerie ed altre sale brillavano al sole disposti in simmetria come una caserma. Il ferro delle scale e dei ponti si innalzava leggero nell'azzurro dell'aria. E il camino delle cucine mandava turbinando un fumo da opificio. Il grande serbatoio quadrato, retto per aria da pilastri di ferro fuso, aveva lo strano profilo di un monumento barbaro innalzato lassù dall'orgoglio di un uomo. Lontano Parigi rumoreggiava. Quando Denise tornò da quei suoi pensieri che volavano sopra il Paradiso come in una solitudine, vide che Deloche le aveva preso la mano, ma aveva il viso così stralunato che gliela lasciò fra le sue. Abbiate pazienza, diceva lui. Ormai è una cosa finita. Sarei troppo disgraziato se mi toglieste la vostra amicizia per punirmene. Vi giuro che vi volevo dire un'altra cosa. Sì, volevo mostrarvi che ormai ero rassegnato. Piangeva da capo e cercava di non far tremare tanto la voce. Perché io lo so quel che mi tocca nella vita. E il destino non mi si muta più. Botte laggiù, botte a Parigi, botte dappertutto. Sono qui da quattro anni e sono sempre l'ultimo del reparto. E per questo vi volevo dire di non darvi pensiero di me. Non vi darò più noia. Cercate di essere felice. Amate un altro. Sarò contento. Contenta voi. Sarò contento anch'io. Sarà quella la mia felicità. Non potesse guidare. Come per sigillare la promessa, avea posate le labbra sulla mano della ragazza e la baciava col bacio umile d'uno schiavo. Denise era commossa e con affetto fraterno che diminuiva la compassione disse soltanto «Povero figliolo!». Ma dettero un guizzo e si voltarono. Mouret era lì davanti a loro. Da dieci minuti Jouvet cercava per il magazzino il direttore, che era sui palchi della nuova facciata in Rue de Disdesambre. Tutti i giorni vi stava delle ore, cercando di appassionarsi a quei lavori ai quali aveva pensato tanto. Era il rifugio dei suoi tormenti, trovarsi tra i muratori che innalzavano i pilastri degli angoli in pietre di cava e i fabbri ferrai che vi posavano su i ferri dell'ossatura. La facciata usciva già dal suolo, accennava il porticato, le finestre del primo piano, un palazzo appena disegnato. Mouret saliva sulle scale. Discuteva con l'ingegnere e gli ornamenti che dovevano essere originali. Scavalcava ferri e mattoni, scendeva perfino nei fondamenti e, il frastuono della macchina a vapore, lo strepito delle gru, il rumore dei martelli, le grida di quel popolo d'operai, in quella grande gabbia circondata da impalcature che risuonavano, riusciva per un po' a stordirlo. Ne usciva bianco di polvere, nero di limatura di ferro, coi piedi infangati dalle cannelle d'acqua che gli schizzavano addosso. Così, malguarito dai suoi pensieri, che l'angoscia subito lo riafferrava e gli faceva battere più forte il cuore, a mano a mano, che lui veniva morendo il fracasso degli operai. Quel giorno, per l'appunto, era tornato di buon umore per una distrazione avuta e stava tutto attento a guardare un album di disegni di mosaici e terre cotte smaltate che dovevano decorare il cornicione quando Juvet venne a cercarlo, ansante, tutto arrabbiato di sciupare il suo soprabito tra quei materiali. Da principio esclamò «Ma aspettino!» Poi l'ispettore gli sussurrò qualcosa in un orecchio ed egli lo seguì, fremendo e riassalito da tutto il suo male. Tutto era bello e finito. La facciata veniva giù prima ad essere in cima. Che gli giovava quel trionfo supremo del suo orgoglio se bastava soltanto il nome d'una donna sussurratogli all'orecchio per tormentarlo a quel modo. Quando fu giunto, Bordoncle Juvet credettero prudente andarsene. Deloche scappò anche lui. Denise sola restava davanti amore, più pallida del solito, ma guardandolo francamente in viso. «Seguitemi, signorina», disse egli duramente. Lei lo seguì. Scesero due piani, attraversarono i reparti dei mobili e dei tappeti senza dire una parola. Quando fu davanti al suo studio, lui spalancò tutta la porta. «Entrate, signorina!» e, richiusa la porta, andò al suo scrittoio. Il nuovo studio del direttore era più lussuoso di quello di prima. Invece che di Reps, l'arredamento era di velluto verde. Uno scaffale, pieno di libri, incrostato d'avorio, copriva tutta una parete, ma il ritratto di Madame Edouane c'era sempre, giovane, con un bel viso calmo che sorrideva da dentro la sua cornice dorata. «Signorina», disse lui finalmente, cercando di mantenere una severità fredda. «Ci sono delle cose che noi non possiamo tollerare. La buona condotta qui è di rigore!» Si fermò, cercando le parole per non lasciarsi prendere dalla collera furiosa che si sentiva venire. Come? Era quel coso lì che lei amava, quel miserabile venditore, lo zimbello del suo reparto. Era il più goffo di tutti che lei preferiva a lui, padrone, perché li aveva visti con gli occhi suoi. Lei gli aveva abbandonata la sua mano e lui la copriva di baci. «Sono stato troppo buono con voi, signorina», continuò facendo un nuovo sforzo. «D'essere ricompensato così, non me l'aspettavo davvero». Denise, fin da quando era entrata, aveva posato gli occhi sul ritratto di Madame Edouane che, nonostante il suo gran turbamento, la teneva ancora sopra pensiero. Tutte le volte che entrava nella direzione, il suo sguardo si incrociava con quello del ritratto. Ne aveva un po' paura, per quanto dall'aspetto le paresse buona. Quel giorno la vedeva lì, come a proteggerla. «È vero, signore», rispose con dolcezza. «Ho fatto male a fermarmi a discorrere e ve ne chiedo scusa. Quel giovanotto è del mio paese». «Lo caccio via!», urlò Muret, che mise tutto il suo dolore in quel grido furioso e, fuori di sé, smettendo di far la parte del direttore che rimprovera una ragazza che ha mancato i regolamenti, si lasciò andare a parole violente. Non si vergognava? Una ragazza come lei abbandonarsi ad uno stupido come quello? E venne a delle accuse atroci, le rimproverò Houten e degli altri ancora con una tal foga di parole che lei non poteva nemmeno difendersi. Ma voleva fare un repulisti. Li voleva mandar via tutti a pedate. La serietà che si era ripromesso di conservare mentre seguiva Jouvet finiva nella vergognosa violenza di una scenata di gelosia. «I vostri amanti, sì, me l'avevano detto, ed ero stato tanto bestia da dubitarne! Non c'ero che io! Non c'ero che io!» Denise, soffocata, stordita, ascoltava quegli infami rimproveri, senza che da principio riuscisse a capire. «Mio Dio! La credeva dunque una poco di buono!» A una parola più dura si diresse silenziosamente verso la porta e, a un gesto che egli fece per trattenerla, «Lasciatemi, signore! Me ne vado!» «Se voi credete a quello che dite, non voglio restare nel magazzino neppure un minuto di più!» Egli corse davanti alla porta. «Ma difendetevi almeno! Dite qualche cosa!» Lei restava dritta, in un silenzio di ghiaccio. Mure per un pezzo la tempestò di domande, con un'ansietà sempre crescente, e la muta dignità di quella vergine pareva ancora quella volta il calcolo sapiente di una donna maestra nella tattica della passione. Denise non poteva fare in modo che Mure le cadesse ai piedi, più straziato dal dubbio, più desideroso d'essere convinto. «Guardiamo! Voi dite che è uno del vostro paese! Vi potete essere incontrati là! Giuratemi che tra voi e lui non c'è stato niente!» Allora, siccome lei si intestardiva nel suo silenzio e voleva sempre aprire la porta e andarsene, finì di perdere la testa ed ebbe un'esplosione suprema di dolore. «Mio Dio! Io vi amo! Perché pigliate gusto a martirizzarmi così? Non lo vedete che per me non c'è più nulla? Che della gente di cui vi parlo non mi importa che per voi? Che ora siete voi la sola cosa che mi preme al mondo? Vi ho creduto gelosa e ho sacrificato i miei piaceri. Vi hanno detto che avevo delle amanti. Ebbene, non ne ho più! E tanto se esco di casa non vi ho preferito proprio a quella signora? Non ho rotto con lei per essere tutto vostro! Aspetto ancora un ringraziamento, un po' di gratitudine! E se avete paura che io ci ritorni, potete star tranquilla. Lei si vendica aiutando uno dei nostri commessi a metter su un negozio e farmi concorrenza. Dite, bisogna che mi metti in ginocchio per commuovervi!» A tal punto era ormai lui, che non perdonava un peccatuccio alle ragazze del suo magazzino, che le buttava sull'astrico al minimo capriccio, si trovava ora ridotto a supplicare una di loro di non andarsene, di non abbandonarlo nella sua sventura. Si poneva attraverso la porta. Era pronto a perdonarle, a chiudere gli occhi, purché si degnasse di dire una bugia. E diceva la verità. Delle ragazze trovate per le trattorie ne era stufo. Non stava più con Claire. Non aveva nemmeno rimesso più piede dalla desforge, dove Boutemont spadroneggiava, aspettando l'apertura di nuovi magazzini, o quatre saisons, che già riempivano di annunci giornali. «Ma dunque?» «Mi devo mettere in ginocchio!» ripetè, soffocato dal pianto represso. Denise lo trattenne con la mano, non potendo più nemmeno lei nascondere il suo turbamento, commossa nell'intimo da quella passione per cui vedeva tanto soffrire Mouret. «Fate male a pigliarvela così», rispose alla fine. «Vi giuro che tutte queste sono calunnie. Quel povero diavolo è innocente, anche lui, come me». E teneva gli occhi limpidi, alti e dritti con la sua bella franchezza. «Va bene, vi credo», mormorò lui. «Non manderò via nessuno, dato che pigliate tutti sotto la vostra protezione. Ma allora, se non volete bene a nessuno, perché respingete me?» Un improvviso imbarazzo, un inquieto pudore si impossessarono di lei. «Volete bene a qualcuno?» ripigliò Mouret con la voce che gli tremava. «Me lo potete dire? Non ho nessun diritto io sul vostro amore. Volete bene a qualcuno?» Lei s'era fatta rossa infuocata. Aveva il cuore sulle labbra. Sentiva di non poter dire una bugia, con quell'emozione che la tradiva, quella ripugnanza, mentire che faceva leggere sul suo viso la verità. «Sì», disse alla fine. «Ve ne prego, lasciatemi andare, ne soffro per voi, mi fate commuovere». Toccava ora a lei. Non bastava che si dovesse difendere da lui? Anche contro se stessa bisognava si difendesse, contro gli impeti di amore che oggi le toglievano tutto il coraggio. Quando Mouret parlava in quella maniera, quando lo vedeva tanto commosso, così sotto sopra non sapeva più nemmeno lei perché diceva di no. E soltanto dopo, in fondo alla sua natura di ragazza sana nel corpo e nell'anima, trovava la fierezza e la ragione che la tenevano dritta nella sua ostinazione di vergine. Era per un istinto di felicità che si incaponiva nel rifiuto, per soddisfare il suo bisogno di vita tranquilla e non per ubbidire all'idea della virtù. Sarebbe caduta tra le braccia di quell'uomo, vinta nella carne e nel cuore, se non avesse sentito ripugnanza a darsi intera, gettandosi nell'ignoto dell'avvenire. L'amante gli faceva paura, quella paura pazza che prende la donna quando le si avvicina l'uomo. Mouret si era accasciato in un cupo scoraggiamento. Non capiva. Tornò al suo scrittoio, prese i fogli che riposò subito e disse «Non vi trattengo più. Io non vi posso tenere contro la vostra volontà». «Ma io non me ne voglio andare», rispose lei sorridendo. «Se mi credete onesta, resto. Le donne bisogna sempre crederle oneste. Ce ne sono molte di donne oneste, ve lo dico io». Gli occhi di Denise, involontariamente, si erano posati sul ritratto dell'Edouen, di quella signora tanto bella e brava che, col suo sangue, dicevano, portava fortuna al magazzino. Mouret seguì gli sguardi della giovanetta, trasalendo, perché gli era parso sentire la voce della moglie morta. Quelle parole lei le ripeteva spesso, ed era quasi una risurrezione. Ritornava in Denise il buonsenso, il giusto equilibrio di quella che aveva perduto, perfino la voce dolce, avara di parole inutili. Ne fu commosso e si fece ancora più triste. «Sapete che io sono una cosa vostra ormai», mormorò per concludere. «Fate di me quel che vi pare». Allora lei riprese spigliatamente. «Così va bene. Il consiglio di una donna, per quel che sia, è sempre utile starlo a sentire quando lei ha un po' di intelligenza. Se vi affidate alle mie mani, farò una brava persona di voi, state sicuro». Scherzava con la sua aria semplice che aveva in sé tanta grazia. Anche lui sorrise malinconicamente e la riaccompagnò alla porta come una signora. Il giorno dopo Denise era nominata direttrice. La direzione aveva sdoppiato il reparto di vestiti, facendo apposta per lei un reparto di vestiti da bambini che fu messo accanto all'abbigliamento. Da quando avevano mandato via suo figlio, Madame Orelie tremava perché si accorgeva che i capi divenivano freddi verso di lei e vedeva ogni giorno accrescersi la potenza della giovane. Chissà che non approfittassero della prima occasione e con un pretesto qualunque non le togliessero il posto per darlo a costei. La sua maschera imperiale pareva smagrita dalla vergogna che macchiava ormai la dinastia dei Lom e tutte le sere se ne andava ora a braccio del marito, riavvicinati dalla loro disgrazia, accorgendosi un po' che la colpa era di quel loro disordine in famiglia, mentre il povero uomo, anche più addolorato di lei, temendo che sospettassero anche lui di furto, contava due volte i quattrini ad alta voce, facendo veri miracoli col suo moncherino. Per questo, quando vide Denise divenire direttrice del nuovo reparto, Madame Orelie fu tanto contenta che fece di tutto perché lei e tutte si accorgessero del bene che le voleva. Com'era stata buona non portarle via il suo posto e la colmava di gentilezze, trattandola da pari a pari, andando spesso a parlarle nel reparto accanto, con un'aria maestosa, come una regina madre che va a far visita a una giovane regina. Del resto, Denise era ora al colmo della sua fortuna. La nomina direttrice aveva colmato la sua vittoria. Se seguitavano a chiacchierare per quella rabbia delle lingue che infuri in ogni compagnia d'uomini e di donne, gli inchini erano profondi fino a terra. Marguerite, divenuta aiuto nell'abbigliamento, non la finiva più con gli elogi. Perfino Claire aveva piegato il capo, costretta a rispettare una fortuna di cui si sentiva incapace. Ma il trionfo di Denise era anche più intero sugli uomini. Su Jouvet, che non le parlava più se non ripiegato su se stesso. Su Houten, che sentiva il terreno mancarli sotto i piedi, su Bordoncle per ultimo, ridotto a non saper più che fare contro di lei. Quando l'aveva vista uscire dalla direzione sorridente e tranquilla, quando il giorno dopo il direttore aveva voluto dal consiglio il nuovo reparto, si era inchinato pieno di un sacro terrore per le donne. Aveva sempre ceduto così davanti a Moré, riconoscendolo per padrone e signore, anche quando pareva non più aiutato dal suo ingegno o cedeva stupidamente al suo cuore. La donna era più forte, ed egli s'aspettava ad essere trascinato nella rovina. Denise intanto trionfava con calma e con grazia. Contenta di quel rispetto, voleva vedere un'affettuosa simpatia per quel che aveva dovuto soffrire da principio, e una ricompensa del suo lungo coraggio. Per questo, con sorridente allegria, accoglieva anche le più piccole prove d'amicizia. E si fece così voler bene davvero da molti, tanto era dolce e benevola, sempre pronta a rispondere con l'affetto all'affetto. Non mostrò invincibile ripugnanza che per Claire, perché aveva saputo che aveva fatto quanto aveva detto, e una sera s'era portata con sé Colombin, e il commesso, trascinato dalla sua passione finalmente soddisfatta. Non tornava a volte la sera a casa, mentre la povera Genevieve se ne moriva. La cosa correva per il paradiso, e pareva un fatto curioso. Ma questo dolore, l'unico che avesse, non alterava affatto l'umore di Denise. Bisognava vederla nel suo reparto, tra il suo popolo di bambini di tutte l'età. Era proprio il suo posto, perché li adorava. A volte c'erano lì una cinquantina di bambine e altrettanti bambini, un intero collegio che tumultuava nei desideri nascenti della civetteria, e le mamme perdevano la testa. Lei, sorridendo, faceva mettere tutti quei monelli in fila a sedere, e quando c'era una piccina, che col suo visino rosa la tentava, la voleva servire da sé. Portava il vestitino e lo misurava sulle spalline grasse, con le dolci maniere di una sorella maggiore. Tra le voci delle mamme che sgridavano, si sentivano risate argentine e leggere esclamazioni di stupore. Qualche volta una ragazzina più grande, di nove o dieci anni, si guardava in uno specchio con un palloncino di panno sulle spalle, si voltava, si rivoltava tutta attenta, con gli occhi luccicanti per il bisogno di piacere. E la roba si ammucchiava sui banchi. Vestitini di tela d'asia color rosa e turchino per i bambini da uno ai cinque anni, uniformi da marinaio, cappine con risvolti, mantelli, giacchettine, una confusione di vestiari piccoli e striminziti nella loro grazia infantile, come il corredo di una schiera di grandi bambole tratto dagli armadi e saccheggiato. Denise aveva sempre in fondo alle tasche qualche confetto, per far calmare un bambino che, mettiamo il caso, volesse per forza un paio di calzoncini rossi. Viveva là, tra i piccini, come nella sua famiglia, ringiovanita da quella innocenza e da quella freschezza che, di continuo, le si rinnovava intorno alle gonnelle. Aveva anche spesso lunghe conversazioni con Muret. Quando doveva andare in direzione per prendergli ordini o dare qualche notizia, lui la teneva lì a discorrere, e gli piaceva starla a sentire. Era ciò che lei chiamava ridendo «Far di lui un brav'uomo». Nella sua testa seria e sveglia di Normanna nascevano disegni sopra disegni, quelle idee sul nuovo commercio che aveva già da Rubinò e che gli aveva in parte accennate quella sera che avevano passeggiato insieme alle Tuiery. Non le riusciva occuparsi di una cosa, vedere andare avanti un lavoro senza essere tormentata dal bisogno di metterci un po' di ordine, di migliorare il meccanismo. Per questo, da quando era entrata nel paradiso, le dava fastidio principalmente l'incerta sorte dei commessi. Quel poter essere mandati via da un momento all'altro le pareva ingiusto e dannoso per tutti, tanto per il magazzino quanto per il personale. Ogni volta che per i reparti si imbatteva in una venuta di fresco, coi piedi indolenziti, gli occhi pieni di lacrime, trascinante la sua miseria sotto il vestito di seta, tra la persecuzione accanita delle compagne, le tornavano alla mente i dolori di quando anche lei aveva incominciato e si sentiva stringere il cuore di compassione. Quella vita da cane frustrato faceva cattive anche le migliori e le passavano per la testa tutte, rovinate dal mestiere prima dei quarant'anni. Scomparse nell'ignoto, le più morte dalla fatica, tisiche o anemiche per il lavoro e l'aria cattiva, altre divenute sgualderine sui marciapiedi, le più felici maritate e sepolti in fondo a una botteguccia di provincia. Era umano, era giusto quello spaventoso consumo di carne che i grandi magazzini facevano anno per anno, e difendeva le ruote della macchina non già con ragioni sentimentali ma con argomenti tratti dall'interesse stesso dei padroni. Chi vuole una macchina forte la fa di bon ferro. Se il bon ferro si rompe o si lascia rompere, il lavoro si ferma, la forza si disperde, le spese crescono. Qualche volta si accendeva e vedeva l'immenso basare ideale, il falanstero del negozio dove ciascuno avrebbe la sua parte degli utili secondo i suoi meriti, con la certezza dell'avvenire regolato da un contratto. Murray allora, per quanto soffrisse, si metteva a ridere. L'accusava di socialismo e le chiudeva la bocca mostrandole la difficoltà della pratica. Perché lei parlava nella semplicità dell'anima sua e si abbandonava con coraggio all'avvenire quando si accorgeva di uno strappo pericoloso nella sua pratica di cuore buono. Ma intanto egli era scosso e sedotto da quella voce giovane, fremente ancora dei mali sofferti, tanto convinta quanto indicava le riforme che dovevano rafforzare il magazzino. E la stava a sentire mentre scherzava. A poco a poco la sorte dei commessi era migliorata. I licenziamenti in massa erano sostituiti da un sistema di congedi dati nelle stagioni di minor vendita. Si stava perfino studiando una cassa di muto soccorso che avrebbe messo gli impiegati al sicuro e avrebbe dato loro una pensione a una certa età. Era il germe delle grandi società del ventesimo secolo. Denise, d'altra parte, non si contentava di curare le piaghe vive che l'avevano fatta sanguinare. Certe sue idee gentili, suggerite a Murray, misero sottosopra la clientela. Fece perfino contento l'homme, sostenendo un'idea che egli aveva da un pezzo, quella di metter su una banda tutta composta di impiegati. Tre mesi più tardi, l'homme aveva 120 suonatori sotto di sé. L'ideale della sua vita era bello e raggiunto. Fu data nei magazzini una grande festa, ballo e concerto, per presentare la banda del paradiso ai clienti e al mondo intero. I giornali ne parlavano. Perfino Bourdoncle, sconvolto da quelle innovazioni, dovette inchinarsi davanti all'enorme pubblicità. Poi fu messa una sala da gioco per i commessi, due biliardi, delle tavole di trick-truck e di scacchi. La sera ci furono nel magazzino dei corsi di inglese e di tedesco, di grammatica, aritmetica e geografia. Perfino di equitazione e di scherma. Fu istituita una biblioteca e diecimila volumi furono messi a disposizione degli impiegati. E si aggiunse anche un medico che desse tutto il giorno consulti gratuiti, bagni, trattoria, sala di toilette. Si poteva viver lì senza mai uscirne. C'era lo studio, il mangiare, il letto, il vestito. Il paradiso bastava a se stesso, a tutti i suoi piaceri e bisogni, in mezzo a Parigi che non si stancava ad ammirare quella città del lavoro, che cresceva così rigogliosa tra le vecchie strade, aperte finalmente alla luce del sole. Tutti si volsero allora in suo favore. Sentendo Bourdoncle dire e ripetere agli amici che avrebbe dato un tanto per metterla a lui nel letto di Mouret. Capirono che non aveva mai ceduto e che la sua onnipotenza proveniva dai suoi rifiuti. E da quel momento fu levata al cielo. Sapevano quel che le dovevano e l'ammiravano per la forza di volontà che aveva avuto. Questa sì che aveva messo il piede sul capo del padrone e li vendicava tutti, traendo da lui ben altro che promesse. Era giunta alla fine quel che faceva un po' rispettare i poveri diavoli. Quando passava col suo volto gentile e ostinato, con la sua aria dolce e invincibile, i commessi le sorridevano, ci tenevano a lei, l'avrebbero volentieri mostrata al pubblico. Denise ne godeva e si lasciava avvolgere da quella simpatia sempre crescente. Ma com'era possibile? Si rivedeva quando era entrata nel magazzino miseramente vestita, spersa, spaventata tra le ruote della terribile macchina. Le era sembrato per un pezzo di non essere nulla, di essere appena un chicco di miglio sotto una macina enorme. Ed ora era lei l'anima di tutto. Lei sola importava. Lei sola poteva con una parola precipitare o rallentare il colosso che stava sotto i suoi piedini. Eppure non l'aveva mica voluta tanta potenza. Si era soltanto presentata senza pensieri nascosti, con l'unico incantesimo della dolcezza. Qualche volta si meravigliava lei stessa di trovarsi così sovrana e ne era inquieta. Perché mai le obbedivano tutti? Non era bella e non era nemmeno cattiva. Ma poi sorrideva col cuore in pace, non avendo in sé che bontà e ragione, un amore della verità e della logica che faceva la sua forza. Una delle più grandi gioie di Denise fu di poter giovare a Pauline col favore di cui godeva. Pauline era incinta e aveva una gran paura addosso perché in 15 giorni avevano dovuto andarsene due ragazze nel settimo mese di gravidanza. La direzione non tollerava certe cose. La maternità era soppressa come un imbarazzo e un'indecenza. Fino al matrimonio alla peggio si poteva permettere, ma ai figli, i figli poi no. Pauline aveva, è vero, il marito impiegato anche lui nel paradiso, ma con tutto ciò aveva paura perché poteva durarci poco ancora e per ritardare di essere mandata via si stringeva in modo da soffocarne risoluta a nascondere la cosa più che potesse. Una delle due ragazze mandate via aveva partorito in quei giorni un bambino morto, a forza di stringersi la vita. I medici disperavano anche di salvare lei. Bordoncle osservava intanto che il viso di Pauline diventava sempre più livido e che lei camminava tutta ad un pezzo come se ne soffrisse. Una mattina, mentre lei era vicino, un garzone che alzava un pacco le diede un tal colpo che lei mandò un urlo e si mise subito le mani sul corpo. Quando si fu riavuta, la portò da parte, le fece confessare tutto e poi propose al consiglio di mandarla via, col pretesto che un po' d'aria di campagna era proprio quello che le ci voleva. Tutti avrebbero saputo di quel colpo e se abortiva, il pubblico ne sarebbe stato commosso. L'anno prima un'altra ragazza aveva abortito. Mouret, che non era presente al consiglio, non pote dire il suo parere che la sera, ma Denise aveva avuto il tempo di prepararlo e chiuse subito la bocca a Bordoncle in nome dell'interesse stesso del magazzino. Volevano mettersi contro tutte le mamme? Farsi nemiche tutte le giovani signore della clientela? Fu allora stabilito che tutte le maritate, quando fossero restate incinte, sarebbero state messe presso un'allevatrice speciale non appena la loro presenza al banco desse noia ai buoni costumi. Il giorno dopo, quando Denise salì nell'infermeria a far visita a Pauline, che aveva dovuto mettersi a letto, questa la baciò di schianto su tutte e due le guance. Come siete buona! Se non eravate voi, mi mandavano via! Non abbiate paura, il medico dice che non sarà niente! Bouget, che era scappato per un momento dal suo reparto, era anche lui lì, dall'altra parte del letto. Balbettò dei ringraziamenti, confuso davanti a Denise, che ora trattava come una persona degna di ogni rispetto e molto superiore a lui. Oh, se avesse sentito dire anche qualche porcheria su di lei, avrebbe pensato lui a chiudere il becco agli invidiosi. Ma Pauline, sorridendo, alzò le spalle. «Mio caro, tu non dici che sciocchezze! Va, va! Lasciaci un po' discorrere insieme!» L'infermeria era una stanza lunga inondata di luce con dodici letti in fila, con le loro tende. Ma quel giorno c'era Pauline sola, in un letto vicino a uno dei grandi finestroni che davano il runeo Sant'Agustenna. Cominciarono subito le parole affettose e le confidenze sussurrate in mezzo a quella biancheria pulita, a quell'aria dolce e a quel vago profumo di bucato. «Dunque, fa tutto quello che volete voi! Come siete cattiva a farlo soffrire così! Ditemi un po', giacché sono entrate in questo argomento. L'odiate?» teneva tra le sue mani la mano di Denise, che era a sedere accanto al letto, coi gomiti appoggiati sul capezzale. E Denise, profondamente commossa, con le guance infiammate, non ebbe più la forza di tenere stretto il suo segreto e, nascondendo il capo nel guanciale, mormorò «Gli voglio bene!» Pauline cascò dalle nuvole. «Come? L'amate? Ma allora ci vuol poco! Dite di sì!» Denise, con il viso sempre nascosto, diceva di no, scuotendo risolutamente la testa. E diceva di no appunto perché gli voleva bene, senza riuscire a spiegarselo, ma sentiva in quel modo e, per quanto capisse che era una cosa ridicola, non si poteva mica cambiare. La sorpresa dell'amica aumentava e le domandò alla fine «Ma dunque, perché non fate in modo di farvi sposare?» Denise si rizzò a un tratto sottosopra. «Lui, sposarmi! Oh no! No, no, no! Vi giuro che non ci ho mai pensato! No! Non mi è mai nemmeno passato per la testa! E lo sapete, se son capace di mentire!» «Dio!» rispose con dolcezza Pauline. «Se aveste voluto farvi sposare, non vi sareste comportate diversamente, o prima o poi bisogna che la finiate! E non c'è che il matrimonio, se vi ostinate così! Tutti, vedete, lo credono! Già, credono che lo fate disperare per portarlo davanti al sindaco! Che ragazza curiosa siete voi!» E si dovette mettere a consolare Denise, che era ricascata sul guanciale, si inghiozzando e ripetendo che se ne voleva andare, dato che l'accusavano di cose che non si era neppur sognate. Sicuro, quando un uomo ama una donna, la deve sposare. Ma lei non voleva niente, non ci pensava, desiderava soltanto che la lasciassero in pace con i suoi dolori e le sue gioie, come tutti gli altri. Era meglio che se ne andasse. In quel mentre, Mure passava giù nei magazzini. S'era voluto distrarre visitando da capo i lavori. Erano passati dei mesi, e la facciata alzava ora le sue linee monumentali dietro l'impalcatura che la nascondeva al pubblico. Un esercito di operai vi lavorava nei marmi, nelle porcellane, nei mosaici. Si stava dorando il gruppo di mezzo. Sopra la porta e sul cornicione si ponevano già i piedistalli che dovevano reggere le statue delle città industriali della Francia. Dalla mattina alla sera, lungo Rue de Deux d'Isambre, aperta da poco, stava ferma una folla di curiosi a guardare in su senza riuscire a vedere nulla, ma attirati dalle meraviglie che si raccontavano di quella facciata che il giorno dell'inaugurazione doveva far parlare di sé tutta Parigi. Su quei palchi dove ardeva il lavoro, in mezzo agli operai che finivano di porre ad effetto il suo sogno, Mure sentiva più amaramente che mai la vanità della sua potenza. Il pensiero di Denise gli aveva a un tratto fatto quasi mancare il respiro, quel pensiero che senza mai posa lo consumava come un male incurabile. Fuggì via senza una parola di lode, temendo di mostrare le sue lacrime, lasciando dietro a sé la nausea del trionfo. Quella facciata che si innalzava quasi compiuta gli pareva piccina come uno di quei muri di sabbia che i bambini si costruiscono. E fosse stata larga da un quartiere all'altro e alzata fino alle stelle, non avrebbe riempito il vuoto del suo cuore che soltanto il sì di una fanciulla poteva riempire. Quando Mure rientrò nel suo studio, si sentiva soffocare dal pianto trattenuto. Ma che voleva dunque Costei? Non osava più offrirle denaro. Il pensiero confuso del matrimonio li si affacciava tra le sue ripugnanze di giovane vedovo. E, nella stanchezza della sua impotenza, non poteva più frenarsi e pianse. Come era infelice. Capitolo tredicesimo Una mattina di novembre, Denise dava i primi ordini al reparto, quando la serva di Badou accorse a dirle che Mademoiselle Geneviève aveva passato malissimo la nottata e che voleva vedere subito la cugina. Da qualche giorno, la poverina non faceva che deperire sempre più, e da 48 ore si era dovuta mettere a letto. «Ditele che vengo subito», rispose Denise molto inquieta. Geneviève moriva e la finiva di uccidere l'improvvisa scomparsa di colore.